Mi chiamo Antonella Braccia, sono una cantautrice, mio nome d'arte è Alontela e ho deciso di partecipare a Prima Donita con un brano scritto da me in collaborazione con un mio amico compositore che si chiama Sulla Buona Strada, è un brano che parla di una donna che ha dei dubbi in merito alla sua storia d'amore ma poi con un dietro fine. Io ho conosciuto il Premio Donita tramite la scuola di Mogol che ho frequentato tramite le borse di studio della regione Lombardia in collaborazione con i conservatori Lombardi e questa esperienza mi ha permesso di conoscere il Premio Donita e non vedo l'ora di iniziare l'avventura.